Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 21 novembre, lunedì, questa sera come sempre c'è Quarta Repubblica, mi raccomando tutti quanti sintonizzati sul Rete4 in prima serata. Allora, oggi è la giornata dei vertici, delle manovre, delle notti, degli ultimi coltelli o dei lunghi coltelli, quello che volete voi. Il titolo del Corriere della Sera è Manovra resa dei conti per un vertice di maggioranza che si annuncia durissimo perché Di Maio ha posto tre condizioni molto rigide a questo governo. La prima, bisogna fare una manovra contro gli evasori, cioè una cosa sulle manette e gli evasori, quindi la parte alta. Dall'altra parte però vuole l'azzeramento delle commissioni dei post per i commercianti e la terza non vuole penalizzare le partite IVA. Di queste tre cose ce n'è una giustissima, la non penalizzazione delle partite IVA, oggi ne parlano tutti quanti i giornali, il Sole 24 Ore prova a fare un'elaborazione di come sarà il nuovo regime delle partite IVA. Io dico soltanto a voi, si cambia una cosa, l'anno dopo, dopo nove mesi se la ricambia un'altra. Secondo voi le partite IVA che sono esseri umani, non sono codici fiscali, come fanno a stare appresso a tutta questa roba se non pagando un commercialista che a sua volta deve pagare qualcun altro per stare appresso a tutta questa materia? E tutto questo per che cosa? Per combattere l'evasione delle partite IVA? No, per renderti la vita più difficile. Poi sono tutti felici, Di Maio per primi, per le manette e gli evasori, il fatto quotidiano, tutte le persone per bene. A me questa roba delle manette e gli evasori mi fa venire il sangue al cervello, si tratta di una finta emergenza. Quando parliamo del contante dobbiamo ricordarci che a ridurla a 1000 euro fu quel genio di Mario Monti, poi è salito a 3000 da Renzi. Secondo voi nel periodo in cui Monti, in quegli mi sembra due o tre anni, abbiamo avuto questa milchiata del contante a 1000 euro, è diminuita l'evasione fiscale? No, non è diminuita, è semplicemente continuata ad aumentare come sempre, posto che poi questi 109 miliardi di evasione fiscale sono una specie di chimera. Come si calcola? Dieci anni fa, Prodi ha detto che ce n'erano 200 miliardi di evasioni fiscali, Cottarelli dice che ce ne sono 130, l'Istat dice che ce ne sono 109. Insomma, ognuno lancia la sua cosa, la sua folle numero, nessuno sui giornali vi spiega come si calcolano, la cosa fondamentale è che si vogliono mettere le manette ai grandi evasori, perché sono cattivi e alla fine poi più che ai grandi evasori si mettono le manette, ovviamente ai commercianti, ai professionisti, a noi, insomma alle partite IVA. L'altra questione, dice Di Maio, nei vertici di maggioranza ci sarà oggi, dobbiamo, come si dice, una cosa ragionevole, i commercianti non possono pagare il POS, ho capito, ma che facciamo, un decreto in cui obblighiamo le banche ad azzerare le commissioni, e allora perché non azzeriamo anche il prezzo dei giornali? Allora anche perché non decidiamo che Sky non deve farsi pagare 19 euro? Ragazzi, attenzione per questo crinale, ho simpatia nei confronti delle banche? No, posto che poi le carte di credito non sono le banche, Nexi non è una banca, Visa e Mastercard non sono banche, le poste non sono una banca, anzi sono anche una pasta, una banca, ma sono anche tante altre cose, facciamo una gigantesca confusione, vogliamo azzerare? Va bene, azzeriamoli, sono perfettamente d'accordo, ma non sarebbe meglio invece fare una cosa normale? L'ho scritto, ho provato a scriverla ieri sul giornale, cioè il mondo va verso la digitalizzazione, obbligarci ad andare verso la digitalizzazione, è una minchiata che piace però a quelli che pensano che l'evasore è sempre l'altro, e questo è il problema dell'Italia. Un altro problemino dell'Italia è questo Renzi, perché devo dire francamente che Renzi è un fenomeno, oggi giustamente Sallusti dice, facile fare il liberale dal palco della Leopolda, poi dopo vai a votare le manette agli evasori, più tasse, hai fatto sì che gli italiani non andassero alle elezioni con questo governo fatto dal PD peggiore, nel quale tu c'eri e con il quale stai governando, insomma si è un po' ridicolo a fare adesso il fenomeno liberale, fare l'OPA su Forza Italia. Chi è che? Urbani, in un'intervista oggi, ricordate il vecchio fondatore, un po' pigro di Forza Italia, che cosa dice? Dice, solo i soldati dovrebbero interessare nell'OPA che Renzi ha lanciato nei confronti dei moderati, invece pare che gli unici che possono andare da Renzi sia qualche colonnello in disarmo o qualche colonnella in disarmo che non ce la fa più a stare con Berlusconi. Oggi c'è un'intervista a Spatafora, che è il ministro dello Sport, è quello che avrebbe preferito fare il ministro dell'Infrastruttura, cioè il ministro gli sarebbe piaciuto andare a Palazzo Chigi, ma invece gli hanno fatto un mazzo così i suoi amici a Spatafora. Mi spiace per Spatafora, ma è pur sempre un ministro, accontentati, la tua macchinetta blu te l'hanno data. Però la sua frustrazione si riesce a leggere nell'intervista che fa oggi, i toni usati da Saldini, dice ministro Spatafora, in piazza ci raccontano di una destra sempre più pericolosa e aggressiva. Benissimo, legittimo che uno lo possa dire. Ma c'è un problema Spatafora, tu ci stavi al governo? Toc toc, Spatafora! Ma non stavi al governo con questi fino a tre mesi fa? E adesso i toni di piazza, peraltro non mi sembravano affatto aggressivi di Salvini, di oggi ti spaventano? E invece quando Salvini diceva quelle cose che diceva il governo, quelle cose che criticava la sinistra, la buffoncella e tutte quelle robe lì, non ti preoccupavi? Quando bloccava i porti la sinistra diceva, ah questi poveracci in mezzo al mare, non ti preoccupavi? Oggi ti preoccupi? Toc toc, ci hai governato con Salvini! Fino a tre mesi fa Spatafora! Fai un po' di jogging, magari il cervello ti si ossigena e ti riesce a ricordare Spatafora, oltre ad aver perso Palazzo Chigi, che probabilmente con Salvini, altrettanto aggressivo, ci stavi al governo pochi mesi fa. Per il resto vale tutto Spatafora, per carità. Fantastico, fantastico, la Gabbanelli oggi! Vi faccio semplicemente, io questo Luca Morisi, che è quello che si occupa delle questioni digitali di Salvini, lo conosco perché lo conosco male, ma insomma l'ho visto qualche volta, lo vedo con Salvini quando viene in trasmissione. Mi sta molto simpatico, uno così, che fa fare un sacco di like, piace un sacco, ha studiato il mondo digital, mentre questi qua pensavano ancora di fare intervista come Spatafora a pagina 3 del Corriere della Sera, no? Sangue al cervello. Invece quello, invece di fare le robe sul Corriere della Sera, pensava che forse il mondo digitale fosse un po' più importante, questo è Morisi, glielo ha spiegato a Salvini, Salvini l'ha capito e fanno le cose che si fanno su internet. Vi dico soltanto l'attacco della Gabbanelli oggi sul Corriere della Sera, l'attacco della Gabbanelli perché il Corriere della Sera non è fake news, il Corriere della Sera è moderato, Salvini è uno stronzo e quindi come si apre il Corriere della Sera oggi parlando di Luca Morisi, un quarantenne che fa il suo mestiere? Allora, Luca Morisi, il consulente d'immagine di Matteo Salvini, il consulente d'immagine di Matteo Salvini ha lasciato il bunker di Mantova dove produce l'epica del Capitano. Il bunker di Mantova! Questo è come Hitler, Hitler stava lì con, capito, con tutti quanti gli scherani nel bunker di Mantova, Gabbanelli, vieni a Quarta Repubblica, vai a Carta Bianca, vai dall'arena, esce sempre dal bunker di Mantova, e che cazzo è il bunker di Mantova? E il bunker di via Solferino che Cairo si è venduto a Blackstone, anzi non voleva vendere a Blackstone, mi preoccuperebbe, il bunker di Mantova, e voi potete leggere il pezzo che parla di questo Morisi che è alto così, che esce dal bunker di Mantova con la pistola pronto con la bestia a uccidere tutto il mondo. Io dico, vale tutto, vale che Spatafora dica che Salvini è pericoloso oggi, mentre ieri no, vale che la Gabbanelli che fa le grandi inchieste sul Corriere della Sera mi spiega che il consulente d'immagine di Salvini esce dal bunker di Mantova. Immaginate i cattivoni che sono nel bunker di Mantova, spero che i miei figli non vedano questa rassegna stampa perché nel bunker di Mantova ogni tanto ci passiamo vicini con l'autostrada e so cazzi se passi vicino al bunker di Mantova, perché ci sono piccoli Morisi là, che ti ammazzano, i piccoli Morisi del bunker di Mantova, a Gabbanelli! E stasera ce lo racconterà la sette, il bunker di Mantova. Salvini nel frattempo fa un'intervista al Corriere della Sera, perché lo intervistano dopo tre giorni, probabilmente ispirata dal bunker di Mantova, e dice, cosa che dice? Vabbè, insomma, se si lamenta con Renzi perché dice la Leopolda di Renzi, che non viene dal bunker di Mantova ma dal bunker della Toscana, beh, la Leopolda di Renzi ha riempito i Tg ma non riempie le urne. Beh, bello il pezzo di Gervasoni, oggi il professore epurato dalla LUIS, dal Max Weber della LUIS, che dice, beh, insomma, il politicamente corretto infesta le università, oggi tutte le università sono politicamente corrette, e quindi Biloslavo, che è un giornalista di guerra, non può andare a parlare a Trento perché gli fanno un mazzo così gli studenti democratici di Trento, ma dice, sarebbe molto giusta la proposta di togliere fondi alle università che non permettono il free speech, perché se una cosa si deve fare all'università è il free speech, poi sui giornali fate quello che vi pare, ovviamente potete scrivere quello che volete, l'avvenire può scrivere le sue cose cattocomuniste, il giornale le sue cose liberiste di destra, potete fare quello che vi pare. Fantastica la verità che non molla Renzi, la verità è ossessionata giudiziariamente da Renzi, il babbo Renzi che avrebbe fatto, secondo Belpietro, anzi ha fatto sicuramente perché il pezzo lo firma Giacomo Amadori, avrebbe usato una sim intestata a un nigeriano per fare le telefonate al bancarottiere, poi che queste telefonate siano illecite non lo so, ma l'idea che il babbo di Renzi, avete presente quel personaggio che sembra un po', eh, quello là col cappellino, no? Dal bunker di Pontassieve, non so dove cacchio abitano, chiama con la sim nigeriana il bancarottiere. Storia straordinaria. Ultima questione riguarda questa sfortuna che abbiamo tutti noi, io non l'ho mai intervistato Conte, neanche lo voglio intervistare, probabilmente a Mediaset prima o poi vi do una notiziola, arriverà, spero non dalle parti mie perché oggi non lo sapevo neanche, Conte è andato a rovinare anche l'audience di Rai 3, dove Gramellini, peraltro trasmissione che non ho mai visto, ma sarà pure bella, ma comunque Gramellini si becca Conte e dice in maniera caustica il giornalista di Libero, cavolo è arrivato Conte, ha fatto l'intervista a Rai 3 e ha perso ascolti rispetto alla settimana scorsa in cui praticamente non c'era nessuno di così eclatante, quindi un disastro questo Conte in televisione, che in realtà il suo Rasputin, cioè Casalino, vuole mandare su tutte le televisioni del mondo perché si è convinto che è così popolare, perché la lotta all'evasione è popolare. Ragazzi, la lotta all'evasione è una minchiata, non è un'emergenza, l'emergenza in un paese come il nostro si chiama sviluppo, lavoro, soldi, ricchi. Volete un paese in cui tutti siamo più poveri o un paese in cui ci sono un po' di ricchi che spendono e rendono i consumi favorevoli anche i più poveri? Boh, non lo so, rispondete poi voi. Tasse invisibili, marchettone finale, insieme a questo è il mio libro, che sapete benissimo che adesso non ce l'ho da queste parti, e l'altra cosa fondamentale è questa sera Quarta Repubblica, perché dal bunker di Quarta Repubblica non uscirà Luca Morisi. Ciao!